Franco Battiato potrebbe avere il morbo di Alzheimer. Queste le indiscrezioni che si stanno rincorrendo in questi giorni sul web ma non sono ancora arrivate conferme. C'è una cortina impenetrabile intorno alla villa di Milo del cantante, lo stesso fratello è partito da Milano per approdare in Sicilia e andare ad assistere Battiato. È impossibile avere informazioni all'esterno, la privacy, come ci si aspettava da uno come lui, viene rispettata e non si ottengono informazioni facili. Un po' come durante tutta la sua vita. Il cantante originario di Giarre Riposto, comune soppresso nel 1945, non ha figli. Al suo fianco è rimasto un solo fratello, originariamente ne erano tre ma uno è morto da piccolo. Ora Michele, il fratello, è partito da Milano per assistere il fratello. Una vita piena di lutti quella del cantautore, cominciando col fratello e passando per il padre che ha perso a soli 18 anni. A novembre 2017 è arrivato l'annullamento del tour che aveva organizzato e il successivo ritiro dalla scena, anche in seguito ad una brutta caduta in casa a Milo a causa della quale si è fratturato femore e bacino. Un post su Facebook avverte gli utenti che il cantante ha annullato tutti i concerti di novembre. In realtà però il cantante non ha annullato solo le tappe di novembre, si è anche ritirato da tutta una serie di impegni che lo coinvolgevano e ha trascorso moltissimo tempo rintanato in casa sua a Milo. Il collegamento con la malattia dei ricordi è avvenuto attraverso l'ode di un suo carissimo amico apparsa qualche ora fa su Facebook, Roberto Ferri professore di chimica e paroliere. Ferri apre così il suo post su Facebook che dedica a Franco Battiato, ode all'amico che fu e che non mi riconosce più, parole che indicano un chiaro riferimento all'Alzheimer soprattutto dopo i vari commenti e le indiscrezioni che stanno trapelando in queste ore. L'ultimo post della sua pagina ufficiale di Facebook è del 14 maggio ed è un repost di un video fatto dal suo collega Giovanotti in cui quest'ultimo sta mangiando un frutto nella sua amata terra, la Sicilia. Franco Battiato ha sempre cercato di evitare i riflettori e ha fatto in modo che questi non rovinassero la sua creatività poetica, tanto che è difficile cosa stia effettivamente succedendo all'interno della recinzione di Cassa sua a Milo.